eccolo il mio ingresso dell'ora di pranzo ma che è oggi ma cos'è amore ragazzi questo è il riso venere scusate il riso quello nero e bianco e frutti di mare le cozze ma 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 mia oggi veramente una meraviglia amore aspetta perché ero piattino per le bucce del dopo dopo no vabbè ragazzi vabbè io metto pammigiano sempre a me mi piace ora che ci levo tutti i cosi bucci queste sono belle cozze che sono andato stamattina alle 5 al porto di catania a pescare a pescare guardate ragazzi guardate che risottino oggi che mi ha fatto e in più i gioiavi chissi sempre io c'ho le belline ma stasera c'è una sorpresa ragazzi ma che è i granchetti guarda che sono belli ma mamma leggi ma quanto generasi i granchetti ma ora tu ti mangi i granchetti che fai scuppi stasera vi faccio vedere una cosa spettacolare cosa va bene ragazze la stasera ci ritroviamo buon pranzo